Per tentare di sconfiggere definitivamente la mafia, ciascuno deve fare la propria parte. Alcamesi, riappropriamoci della nostra dignità. Spesso magari ci sono 3-4 associazioni che gestiscono lo stesso bene, perché non alternarsi magari un giorno l'uno? Oppure perché non fare delle zone magari condivise per più progetti? Siccome i beni sono pochi alle richieste, perché poi le vedo personalmente ogni giorno, sono tantissime, secondo me questo deve essere un canale privilegiato. Ci stiamo trovando ad affrontare e a dover risolvere, soprattutto sotto l'aspetto proprio regolamentare, una serie di questioni che a mio avviso, ispiegabilmente, erano rimaste così, prive di attenzione. Ci sono le stesse informazioni però raccolte in unico elaborato, perché appena abbiamo 20, 30, 40 beni, per capirci qualcosa le debbo sfogliare tutti o andarle a vedere sul sito, così in unico elaborato abbiamo tutto. La cosa certa è che nel passato non si è dato la possibilità ai cittadini di scegliere, non si è detto ai cittadini l'acqua dei pozzi va utilizzata e deve essere utilizzata secondo le carte per questo, poi l'alternativa è l'acqua potabile e il cittadino poteva scegliere con la sua responsabilità della propria salute. Per questo dico l'amministrazione che sta lucrando l'acqua, perché l'amministrazione non sta applicando quel regolamento, basta una semplice nota del sindaco, una nota, un non provvedimento qualsiasi che dica agli uffici di fare questo, applicate il regolamento, ad ognuno la tariffa per fascia di competenza, che come detto dallo geometra Ponzio, per l'80% della popolazione alcamese fa riferimento alla fascia minima. Ritengo che in questo momento non sia il migliore strumento possibile per affrontare una tematica così importante.